Noi cronisti siamo stati un po' costretti a divorziare dalla mitologia della latitanza, dalla mistica della latitanza. Avevamo immaginato quest'uomo braccato in giro per il mondo, inseguito di qua e di là. E questa mitologia frana si schianta contro l'asfalto di una cosa domestica condominiale. Quello stava lì, faceva le sue cose. Quando la realtà collide, non collude, questa volta collide profondamente con le nostre costruzioni mitologiche. Lui è responsabile anche di ciò, Matteo Messina, di aver messo a dura prova la nostra vocazione alla mitologia. E' sbagliato l'analisi che si fa in questi giorni, il complontismo, l'assenza di ingenerosità nei confronti dello straordinario lavoro di carabinieri e magistratura. C'è un pezzo importante di popolo italiano, Antonio, ce lo dobbiamo dire, che non si fida. Dopo la stagione delle stragi, la mancata perquisizione... No, no, io sto felice. No, no, la dobbiamo dire sta roba perché... Generalmente sono in movimento. Luigi, lo stai dicendo una cosa forte. La gente non si fida di che? Non si fida perché? Dello Stato? No, aspetta, andiamo più nello spifo. Arresto di Totorrina. Ok. Mancata perquisizione a Totorrina. trattativa tra pezzi di Stato e Cosa Nostra la vicenda di Provenzano come muore Borsellino Falcone un paese che non riesce a trovare verità e giustizia in queste stragi la borghesia mafiosa le infiltrazioni ormai delle mafie fino al cuore dello Stato come vengono colpiti i servitori dello Stato che stanno fuori dal sistema questo ormai è un dato conoscitivo non è la follia di singoli e la gente questa cosa la sa ecco perché avere fiducia nello Stato significa conquistarsi la fiducia questa operazione ovviamente è un segno a favore meno male dello Stato però lo Stato per essere credibile deve dissipare perché uno che vive tre covi ha quel lusso va come abbiamo detto prima ovunque cioè che credo che l'hanno incontrato tutto in mezzo alla strada quindi evidentemente non è stato cercato questo lo dobbiamo dire a un certo punto sarà stato cercato e l'hanno preso però ripeto il nodo principale adesso fiume di denaro pubblico mani libere per avere mani in pasta pochi controlli poche bombe silenzio zitti e buoni perché la torta è grande e siccome senza le mafie il paese va in default perché se togli l'economia dell'andrangheta di Cosa Nostra e della Camorra l'Italia non va avanti le mafie al nord hanno conquistato interi territori e non solo al sud e allora se non però... ...